Musica Ragazzi in bocca al lupo e buon lavoro Com'è andata? Per fortuna bene, ci aspettavamo peggio però bene per fortuna All'inizio abbiamo incontrato delle difficoltà riguardo le tracce Poi è stato semplice Io ho scelto l'ultima traccia, la tipologia C Era un tema sui argomenti odierni, lo sport e la storia Mentre io la tipologia B, ovvero il testo argomentativo che riguardava la mente umana Bene, molto bene, ho scelto Ungaretti Cioè in varie tracce ho scelto Ungaretti, molto semplice La prima Ungaretti, la poesia di Ungaretti, il risveglio Allora su alcuni punti un po' di difficoltà però per il resto molto molto semplice Quindi abbiamo studiato molto bene Ungaretti quindi meno male Com'è andata la prima prova di esame? È andata, ho scelto quella riguardo il patrimonio culturale e l'importanza che esso ha nella vita dell'uomo No, erano tracce abbastanza originali Sì, sì, al classico queste sono il tipo di tracce che ci propongono Grazie a tutti